Nooo, Kylie YY, serie di fantascienza, carina, e hanno pensato bene di sospenderla, ma come? Hanno fatto, la prima stagione la trovi anche in italiano, le altre due stagioni non le trovi in italiano, sono riuscito a vederle lo stesso in streaming, non mi ricordo su che piattaforma, se forse era Team Vision o lo so, e la terza come finisce? Che stanno lottando e dovrebbe iniziare la quarta, sospesa, lasciata lì, da ammazzarle, perché era carina, peccato, peccato che fanno queste cagate, perché non è normale, però se vi capita di vedere le prime tre, vi mancherà il finale.